mega all shiglam ciao a tutti e bentrovati sul canale come state? io sto molto bene anche perché oggi mi sto riposando è domenica pomeriggio e quindi lo dedico un po' ai miei amici e i miei amici siete voi molto spesso nel corso dei miei anni qui su youtube in moltissime di voi che mi seguite mi avete chiesto ombretta ma cosa ne pensi dei prodotti di shiglam? e io ho sempre disposto non lo so non li ho mai provati e forse non li avrei davvero mai provati se shiglam non mi avesse contattato e se contestualmente voi non mi aveste chiesto durante tutti questi anni cosa ne pensassi quindi quando shiglam mi ha contattato per una collaborazione sono stata ben contenta di dire sì dai facciamola così provo finalmente questi prodotti io ho già aperto tutto e ho già provato tutto e vi spiego anche il perché anzi il trucco che mi vedete su oggi è proprio fatto con tutti i prodotti shiglam l'ho provato prima perché se non mi fosse piaciuto se avessi avuto una qualche reazione allergica se avessi avuto un qualche prurito una qualche cosa che non andava io non avrei mai portato questi prodotti sul canale invece di contro siccome mi hanno stupito e man mano che li vedremo insieme vi dirò anche perché e allora ho deciso di portarli sul canale in più ho fatto già il video full face di questa faccetta qui che vi metterò dopo per farvi vedere proprio come performano questi prodotti perché oggi ve ne parlerò ma la prossima volta ve li farò vedere proprio all'opera è una collaborazione che consiste nell'avermi inviato i prodotti shiglam non mi paga per dire quello che vogliono loro sono le mie vere sincere impressioni e questo vi trasporto da una prima prova dei prodotti col tempo vi confermerò o rivedremo insieme le mie opinioni e sarò molto attenta nel rispondere alle vostre domande qualora ne aveste in questo periodo shiglam sta facendo gli sconti di novembre quindi se siete interessati se dovete comprare qualcosa o se siete soltanto incuriositi fermatevi con me per passare una mezz'oretta insieme a parlare di make up allora primo prodotto che ho in mano molto carino il pack è questo good grip hydrating primer ed effettivamente è un primer veramente aggrappante vi faccio vedere intanto questa è la confezione questo per esempio è un regalo di natale molto carino perché è un primer non si nega a nessuno diciamo lo usiamo più o meno tutti specialmente quando facciamo dei trucchi importanti e questo come vedete ha una formulazione in gel ma come vedete ha un pack veramente veramente carino vi faccio vedere la sua formulazione è così gelosa e ha un buonissimo profumo non invadente per nulla invadente si spalma molto bene si asciuga abbastanza velocemente lascia la pelle pronta per l'aggrappaggio con un leggero finish si aggrappante non direi appiccicoso direi proprio aggrappante accogliente e lascia la pelle molto rinfrescata tonificata profumata ma profumata proprio delicatamente delicatissimamente è una coccola per il viso e mi è piaciuto molto penso che continuerò ad usarlo in maniera continuativa perché è un prodotto buono andiamo avanti pesco random vi faccio vedere una cosa che ho usato che arriva confezionata qui vi faccio vedere in questa scatolina che dice e questa è l'interstellar beauty sponge la volete vedere la vedete più grassottella della scatola perché l'ho usata come vi dicevo ho già provato ma guardate carina è anche un po sporchetta ma che carina è morbidissima ed è molto più grossa delle normali spugnette da trucco però a questo taglionetto che permette di andare molto facilmente in questa zona è molto morbida molto confortevole e stende molto bene il prodotto una coccola per il viso con un look veramente galattico carinissima mi ha strappato un sorriso come vado random che ha strappato un sorriso lei appena l'ho visto se siete della mia generazione non potete non riconoscere gli orsetti del cuore a me è arrivato quello rosa che carino è una palette di ombretti guardate ve la faccio vedere da tutta morbidosa sofficiosa ma noi non dobbiamo fermarci al packaging anche se me questo basta perché io sono così andiamo anche all'interno c'è il suo fogliettino di protezione c'era anche un cuoricino che smattito da qualche parte e poi ecco la palette guardate allora io oggi ho su questo 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 e questo è anche un pizzico di questo nel mio trucco occhi molto scrivente molto bella si sfumano in maniera pazzesca i colori ed è una palette molto versatile perché passa dal classiconi che possono essere questa ai colori super moderni quindi è una palette molto trasversale e hanno tutti i nomi super tenerosi per i vostri ombretti bellini bellini bella scrivenza bel packaging per un adolescente non non so le adolescenti li conoscono gli orsetti del cuore dai 40 anni in su potete regalarvi tranquillamente però insomma io la regalerei anche una nipotina adolescente io posso dire tra un po' una fidanzatina adolescente ma non voglio pensarci una fidanzatina di mio figlio ma ancora non pensiamoci un altro della linea interstellar è questo qua che è una highlighter spaziale ve lo faccio vedere voilà un packaging ragazzi guardate come arrivano foglietto con tutte le descrizioni gomma piumina per proteggerlo e poi arriva lui un pianeta all'interno della sua orbita poi c'è questo che si toglie del magnete con cui rimarrà poi chiuso una volta che avete cominciato ad usarlo oggi non ho messo l'highlighter wow lo proviamo insieme ne metto un po' qui un po' qui wow bellissimo io non sono una molto da questo genere però mi piace moltissimo ed è veramente super super luminoso bellissimo un flash bellissimo scarichiamolo troppo too much per me ma per una ragazza è bellissimo andiamo avanti andiamo avanti con una cosa pazzesca questa quando l'ho provata in video vedrete la mia reazione scioccata questa qua è la cipria di scigliamo una cipria in polvere libera ad si chiama idro touch e si chiama idro touch ho capito perché quando l'ho messa sul viso nel momento in cui la picchettate sul viso è come se vi arrivasse una secchiata di acqua in viso l'effetto è un tocco bagnato come se stesse passandovi una spugnetta ma intrisa d'acqua proprio sentite l'effetto del del prodotto liquido sulla faccia pur essendo assolutamente in polvere anche qui packaging super super professionali i packaging sono bellissimi io non immaginavo scigliamo avesse una cura per il dettaglio così inci bene in chiaro certificazioni bene in chiaro questa per esempio è cruelty free mi pare si è cruelty free e vegana guardate questo qui voilà guardate che bella si apre così io ho rimesso tutto a posto ma l'ho usata poi c'è allo sportellino anche rimesso la linguetta con la carta per farvi vedere tutto com'è e poi dentro a questa retina che dovete pressare pochissimo perché viene fuori tantissimo prodotto come potete vedere è quando toccate il prodotto e ve lo mettete in viso ecco mamma mia l'effetto ma anche a livello di grip è un effetto assolutamente bagnato è come se la cipria si trasformasse in acqua pazzesca però all'effetto setting cioè mette a posto il trucco e nello stesso tempo opacizza in qualche maniera non so che diavoleria sia ma è bellissima da avere addosso confortevolissima esco nella mia busta questo è un altro dei miei preferiti il color bloom liquid blush anche di questi dei packaging fantastici mi ricordano un po qualcosa ma fantastici vi faccio vedere ecco qua belli accattivanti proprio belli e hanno questo tamponcione così che rilascia un bellissimo bollone di prodotto ma la cosa fantastica oltre al colore questo è un colore molto bello vi faccio vedere la sfumabilità è un attimo cioè in un attimo si distribuisce benissimo non lascia il topo ma diventa proprio una sfumatura di colore ed è quello che ho anche su oggi meraviglioso vado avanti sempre con lo stesso pack ne ho due li prendo entrambi perché se no facciamo notte ecco qua vedete che sono aperti perché li ho aperti dal fondo ci sono i due bronzer uno specifico per il contouring mentre l'altro è un sun sculpt sono tutti e due sun sculpt però uno è più caldo e l'altro è più freddo io oggi in video con voi ho provato questo che è il soft tan lo apro sempre da sotto come l'ho preso stamane e vi faccio vedere che colore pazzesco questo color carne ingrigito proprio per creare l'ombra molto freddo guardate come si sfuma alla velocità della luce guardate vedete che lascia l'ombra è pazzesco è pazzesco mi piace tantissimo guardate che lascia l'ombra pazzesco mentre più per una coloritura calda del viso o anche per un un contouring ma un contouring caldo cioè a chi non piace il contouring freddo ho preso la golden sun perché naturalmente poi ho preso colori non troppo scuri scuri ma non troppo scuri che potessero andare bene con il mio incarnato perché poi troppo scuri fanno macchia secondo me e qui vedete qua c'è il colore più caldo questo posso usarlo anche come blush secondo me ed è bellissimo bellissimo stupendi mi sono piaciuti moltissimo nella resa nella sfumatura nell'odore non hanno odori chimici brutti no sono molto gradevoli per esempio il mio correttore pur amandolo ha un profumo chimico pazzesco mentre questi no sono molto più accattivanti ma adesso voglio farvi vedere questo fondotinta questo mi ha stupito tantissimo questo è un fondotinta questo si chiama completion pro long lasting matt fondotinta un fondotinta matt matt fondotinta non si può sentire e l'ho preso in due colorazioni una più bella dell'altra shell e fair una più neutra una più rosata ma sono bellissime entrambe le colorazioni ma bellissimo già il packaging è super esterno arriva con la fuderina in velluto no ditemi se non è lusso allo stato puro e poi questa bellissima confezione con rifiniture in oro bellissima questo tappo si toglie dentro alla pompetta come vedete usato perché l'ho usato stamattina e vi faccio vedere basta veramente pochissimo prodotto vi faccio vedere entrambe le colorazioni a confronto se avete una pelle chiara queste sono due bellissime colorazioni ma è facilissimo capire dal sito anche bellissima anche quella che uso sempre io voilà queste sono le shade vi faccio vedere lo swatch uno e due quindi questa per le zone più in ombra questa per le zone da illuminare di più oppure da miscelare insieme come preferite anche questo è un fondotinta molto facile da stendere ne basta pochissimo vedete come io lo stendo così con la spugnetta e l'effetto non è affatto un effetto in carta pecorito la coprenza è media con la spugnetta io l'ho usato con la spugnetta diviene una media tendenzialmente media bassa forse guardate che bel finish che dà la mano con invece penso il pennello diventi in medio alta ma non sono stata attenta a questa cosa perché io usandolo sempre con la spugnetta perché mi piace avere un film molto sottile di prodotto ha una coprenza medio bassa che per le pelli mature la cosa migliore e non va nelle pieghette come non va nelle pieghette un'altra piccola meraviglia i correttori concealer che si chiamano leggo bright eyes cooling concealer corrector raffina so va bene un correttore che illumina il contorno io ho preso il buttermilk come come colore e il linen stamattina ho usato il buttermilk che è molto molto chiaro e molto 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 illuminante e molto 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 coprente la particolarità di questo concealer è l'erogatore che è a tubetto però con questa punta metallica per decongestionare col freddo esco tutta la zona perioculare anche qui piccolo swatch della shade allora uno vi metto tutti e due i colori allora buttermilk più giallo linen più chiaro vi faccio la strisciata proprio per vedere la differenza del colore oggi ho lui ma lui deve essere in pieno inverno una uno spettacolo perché in pieno inverno mi rischiaro ancora di più e anche loro io li ho apposti poi poi diventano molto simili sfumandoli vedete la parte più rischiarata vedete come illuminano con la spugnetta bellissima bellissimi li userò li userò perché non danno fastidio non fanno lacrima nell'occhio non si infilano nelle pieghette sono facilissimi da stendere meravigliosi un'altra palettina per gli occhi vacation days tropicale shadow questa cui bellissima nel packaging si tira via la copertina diciamo così la controcoperta ecco che la tiene ben salda e chiusa e all'interno troviamo questa sorta di leggenda con i colori e poi il foglietto protettivo e questi colori bellissimi anche questi molto allegri freschi ecco freschi questa è più estiva molto fresca ma anche molto molto mettibile sono tutti colori facilmente mettibili visti così sembrano difficili ma poi guardandoli bene non sono nulla di trascendentale perché c'è questo bellissimo colore che poi diventa una quasi bronzo caldo questo che è stupendo questo giallo che si usa tantissimo i verdi sono molto delicati gli azzurri sono sempre uno matt e uno glitterato glitter matt molto molto belli glitter matt stupendo mi piace molto questa questa palettina la userò di più in primavera estate ma ha dei colori veramente delicati probabilmente loro mi hanno mandato anche queste perché adesso ci sono i grandi saldi di novembre e quindi stanno promuovendo proprio l'uscita di tutti questi prodotti che magari erano più indicati per l'estate e poi questo al contrario questo sempre dei degli orsetti del cuore sono dei lipstick uno più carino di un altro vi faccio vedere no vabbè arrivano così devo farla così l'anteprima del video e all'interno ci sono non uno non due va ben tre c'è un gloss e due lipstick all'interno dei loro vani quindi loro stanno ben assicurati qui e poi potete anche mettere altra roba vediamo metto un po di questo lo scovolino è molto confortevole molto 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 carini proprio teneri teneri che dire lui lui è l'all in one volume late mascara allora devo dire che tra tutto quello che mi è arrivato tra la miriere di cose che mi sono arrivate lui è quello su cui ho un'opinione un po' più controversa l'effetto è quello che vedete sul mio occhio però considerando che ha due fasi uno scovolino tradizionale ed uno scovolino nell'astomero che promette un ultra black ultra volume ultra lunghezza devo dire che è un buon mascara ma di ultra non ho intravisto granché non non immaginavo meglio di quello bellissimo il packaging se volete delle ciglia curate pettinate ben districate con un effetto naturale è bellissimo se cercate l'effetto drammatico che amo io sulle ciglia e allora vi lascerà deluse ma io sono molto 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 esigente con i mascara a me mascara ne piacciono veramente due su un milione e questo non dico che è brutto no assolutamente è un buon mascara per un effetto così naturale insta fill brow pencil questa è meravigliosa allora vi faccio vedere è la matita per le sopracciglia a una parte ultra sottile io credo di non aver mai visto una mina per sopracciglia così sottile ma anche così morbida nell'applicazione ma resistente non si spezza e fa questo bellissimo tratto potete fare veramente il pelo per pelo con queste viene e dall'altra parte invece ha il suo bello scovolino per spazzolare le sopracciglia e subito dopo prenderei per farvelo vedere questo che è il brow gel che ha un effetto pazzesco perché oggi l'avevo quasi dimenticato di mettere poi l'ho messo proprio prima di concludere il video ragazzi le sopracciglia sono incollate sono un po' durette però all'aspetto non si direbbe sono proprio è pazzesco è trasparente non è colorato quindi le colorate con la matita e poi le fissate con questo gel che ve le pettina e ve le mette in posa in maniera definitiva lui allora lui è carinissimo ha un bel tratto una bella scrivenza ma io avrò difficoltà di indossarlo a meno che non studio un make up dove lui possa fungere da protagonista avrò veramente difficoltà ve lo voglio fare vedere è un eyeliner della linea orsetti del cuore e si chiama sweet wish scolored eyeliner cioè il packaging dovete vedere il packaging vi prego il packaging è questo che colore sarà è questa la difficoltà è lilla glicine vi faccio vedere ve lo faccio vedere qui allora il tratto è pazzesco e la scrivenza pure devo riuscire ad incastrarlo in un make up che non mi faccia troppo balera anni 80 diciamo però è molto bello molto molto bello il packaging fa spaccare dalle risate proprio è super cute utilissime le spugnette per la cipria bellissime morbidissime utilissime io una già l'ho usata ve ne prendo una assolutamente nuova queste sono molto carine perché con queste arrivate anche negli angoli tipo qui e non vi calpestate tutto l'occhio così veramente veramente morbide buone buoni 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 dei piumini ottimi come ottimi sono anche questi i paf paf io li chiamo oggi già uno l'ho usato sono i piumini a dito quelli con cui fate questo paf 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 ottimi anche per la stesura del correttore io li uso per la cipria per tamponare la cipria nel conternocchi oppure quando sono fuori per dare un ritocchino veloce infatti questo lo metto un adesso nella cipria in polvere nella cipria pressata dove non ho il piumino mi porto il pennellone invece adesso con questo subito il gioco è fatto lo vado a mettere appena fisco di parlare con voi lo dovevo comprare e me l'hanno regalato quindi sono molto 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 contenta poi lui bellissima ragazzi di questa non l'ho messa in video l'ho messa dopo perché in video ho messo un rossettino che adesso vi faccio vedere che non era lunga d'ora a lunga tenuta ho messo ora questo che è una bomba non se ne va neanche a pregarlo è lui guardate che bello proprio bello come si chiama il ragazzo si chiama live to rom epic adventure liquid lipstick questo colore bellissimo dove ve lo provo ve lo provo qua è un touch velvet quando lo mettete poi con le labbra mie prende questo colore vabbè ognuno poi l'ossida in maniera diversa credo e voilà guardate che bello il mio con la matita un po virato di colore però è questo il colore di base adesso si asciuga è un nude perfetto poi con la matita come vedete lo potete fare virare più sul rosa più sul marrone scuro sul marrone chiaro io l'ho fatto vivere oggi con questo rosa nude è venuto così bellissimo ma non perde le sue specifiche cioè anche se adesso ho messo su il gloss non è transfert ora lo faccio asciugare e poi passo la mano sta su come le tinte che amo tanto io quelle che stanno su una vita poi c'è lui che è il put perfect sunshine lip plumper questo è un lip plumper pazzesco vi faccio vedere questo sono stato un po per capirlo a ho capito di più quello che vi faccio vedere dopo perché una concezione più antica allora guardate questo guardate si apre è il rossetto è in plastica per far venire fuori il plan per bisogna dare un tic lui viene fuori piano piano lo passate poi volendo potete anche asciugare completamente con una salvietta per una questione anche di igiene mettere via a un leggero retro non dico gusto odore di cocco ed è di una morbidezza io questo l'ho usato anche senza niente fa le labbra belle turgide non brucia e non non pizzica fa un effetto plump visivo perché le rende morbide turgide belle ma non è che le gonfia carinissimo carinissimo e poi io lo chiamo il lipstick dei ricordi in realtà si chiama il mega lipstick stack stack adesso vi faccio vedere lui questo è comodissimo quattro rossetti in uno uno due tre è un colore più bello dell'altro sono chiuso troppo questo l'ho usato oggi l'ho chiuso in modo pazzesco vi faccio vedere anche i colori sono poco più che de nude ma danno un effetto pazzesco sono belli durevoli non sono delle tinte però stanno su quelle quattro cinque ore tranquillamente se ne vanno via in maniera molto molto garbata quindi non vi lasciano la traccia sul vuoto al centro cioè se ne vanno via tutti a poco a poco molto molto carini questo è un prodottino veramente veramente intelligente che ricorda molto un prodotto che usava mia nonna erano i rossettini quelli micron dell'avon che si attaccavano uno dentro l'altro erano dei rossettini piccoli 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 ma vi parlo degli anni lei li avrà avuti dai primi anni settanta e io li andavo a rubacchiare perché erano belli mi sembravano i rossetti delle bambole guardate proprio lo strappato se ne va se ne va col con l'acqua micellare questi non non si guardate vi faccio vedere questi non sono fissi nel senso non è che sono questi non rimangono super super attaccati al labbra col tempo se ne vanno però anche loro guardate non è che se ne vanno si si sfumano ma rimangono ok se ne vanno a poco a poco non sono fissi e poi lui il soli su waterproof liquid eyeliner un eyeliner liquido molto bello nero ma molto molto carino sia nel pack molto bellino elegante fine ma anche nella scrivenza vi faccio vedere uala faccio una bella linea spessa nero vibrante molto facile rifà la puntina in un attimo basta appoggiarlo leggermente e la punta è fatta infatti ho fatto così tac e poi ho tirato piano piano bella eyeliner dura non si sgretola anche se waterproof nei primi minuti dopo l'applicazione potete correggerlo anche con un cotton fioc in maniera molto semplice lo vedrete nel video perché ho sbagliato ho fatto una codina lì in su e una un po più in là e un l'ho corretta subito e si è potuta correggere anche solo con acqua quindi molto molto buono promossissimo ultimo ma non per importanza ma per bellezza lui lui si chiama ford bla ford flash slip and check tint quindi per la tinta delle labbra e delle guanciotte carinissimo amarissimo quindi attente quando lo mettete magari non leccatelo qualcuno doveva pur provarlo ma la resa è spettacolare se volete fare le corian lips qua dice che alla fragola insomma io non più che altro il colore fragola è carinissimo anche il pack vi faccio vedere come funziona questo robetto lo prendete e lo mettete e lui ha questo bellissimo colore ora potete farlo asciugare così oppure potete tamponarlo e creare un'ombreggiatura rosata potete anche tamponarlo sulle labbra quindi scaricarlo a una volta che si asciuga il colore rimane fisso cioè non se ne va più bellissimo considerazioni molto meglio di quel che mero figurata ero partita preconcetta e sono stata contenta di ricredermi sono prodotti buoni non hanno odori strani non irri però l'ho detto all'inizio sono buoni prodotti la cosa che mi è piaciuta molto oltre al prodotto in sé è la cura del packaging dove non si lesina nella maniera più assoluta e soprattutto lo studio sul trucco l'innovazione c'è una cosa come questa una cosa come questa la cipria pazzesca pazzesca io non le conoscevo da altre case ma anche la sponge così carina la tinta così rifinita i fondi con l'astuccio in velluto cioè sono cose che altrimenti per averlo e dovremmo pagare molto 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 quindi mi è piaciuto anche questo aspetto e poi anche l'aspetto ira ilare degli orse del merchandising tipo degli orsetti del cuore molto 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 carini molto divertenti molto spensierati sapete sono quei prodotti che tu li usi e mentre li usi ti fai anche un sorrisino no e quindi piacciono a noi ragazze il makeup serve per alleggerire colorire delle giornate che altrimenti potrebbero essere molto grigie quindi mi è piaciuto si finora sì dovessi cambiare idea ve lo dirò e non ho nessun problema al farlo vi ricordo che ci sono i grandi saldi di sciglem e che si possono fare degli ottimi affari con sciglem mi è piaciuto sono soddisfatta sono contenta alla fine mi rimane tutta roba che userò non c'è nulla tranne l'eyeliner viola ma non che non lo voglio usare perché non mi piace ma perché mi sento fuori target fuori età ma per il resto devo dire userò tutto anche il mascara perché comunque è un buon mascara lascia le figlia non in carta pecorite ma le lascia comunque morbide cioè lo senti che non è una formulazione che ti strappa le ciglia dagli occhi quindi è userò tutto con molto molto piacere un'esperienza positiva fatta anche di questo mi fa venire di profumi delicati buoni non aggressivi non chimici quindi devo dire che la mia esperienza è stata davvero positiva con sciglem inaspettatamente perché non me lo immaginavo quindi grazie per avermi seguito spero di avervi divertiti anche oggi sebbene non c'era gabriele che si è rifiutato di fare un video di make up giustamente dico io noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video di chiacchiere insieme un grande bacio a tutti alla prossima volta vado a lavarmi le mani ciao